salve a tutti ragazzi buona serata un piccolo video perché devo scappare devo andare e mi auguro che quando rientro troverò tantissimi terni 31 10 2023 la tecnica spacchiuso e da parecchio ora mi sentite dire questa tecnica sta spaccando i terni già nel giro di pochi mesi ne ha vinti tre ne ha fatti vincere proprio tre super velocemente e mette in campo due ambi è unificato diventa una quartina era solo roma poi si mette giustamente nazionale tutte 26 52 46 e 2 ragazzi qua c'è stasera 52 26 e 46 52 26 e 46 terno spaccato è sceso di una ruota e gli amici gli amici ringrazio gli amici in questo caso hanno usato la tecnica spacchiuso sono strafelici e gli amici vedete usando le mie tecniche 226 46 e 52 vi ricordo che questa tecnica spacchiuso non sono casi isolati chi conosce questa tecnica potete andare a vedere i terni sta producendo che è una meraviglia ne sta producendo tanti 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 sapete cosa vi dico ora esco ma devo parlare con massimiliano perché questa tecnica avevo detto a massimiliano la dobbiamo pure mettere all'interno del fantastico software che sta andando a meraviglia perché massimiliano se mi sta ascoltando a parte che ti verrò a disturbare nel senso buono massimiliano dobbiamo mettere all'interno del fantastico software pure la tecnica spacchiuso e mi sa che metteremo pure la mummia la mummia la mummia domani sera ci vediamo da massimiliano tutti quanti venite in tantissimi ragazzi superati in mille in live doneremo la tecnica la mummia che poi verrà messa all'interno del software e mi raccomando massimiliano questo è spacchiuso lo sai massimiliano dobbiamo mettere all'interno del software si sta avvicinando il natale si sta avvicinando il natale questo software deve essere più arricchito più bello più bello sempre più bello ragazzi il software di salvo e massimiliano ma adesso lotto per vincere più per il lotto per vincere pro ragazzi che questo regalo innovativo di cose regalo per natale alla mia una persona mia cara ragazze volete fare un regalo in un regalo bello un regalo nuovo originale se conoscete che qualcuno a voi caro amante del lotto cosa c'è di meglio del software realizzato da me e massimiliano ottimo regalo ragazze e poi volete mettere vincite a non finire con le tecniche del sottoscritto e di massimiliano in questo vi saluto ragazzi devo scappare vediamo quanti terni arriveranno con una tecnica spacchiuso ragazzi vuoi fare vuoi far parte pure tu degli spacchiosi e usa spacchiuso ciao a tutti